Un'intera serata dedicata alle persone affette da SLA, alla sclerosi laterale amiotrofica, alle loro problematiche quotidiane, ai loro bisogni ma anche alle loro aspirazioni. E poi un finale in musica per sottolineare con le note e con le voci dei coristi un momento di impegno e di solidarietà concreta. Sono stati momenti intensi, quelli vissuti sabato a Nuoro nel Teatro Eliseo, nel corso della manifestazione Slancio di Gioia tra Parole e Musica. Un appuntamento promosso dall'Isla Sardegna attraverso la sezione di Nuoro Eugliastra preseduta da Rosa Pulighiddu. Una manifestazione sull'onda dell'emozione per il ricordo di chi non c'è più, ma anche per riuscire a dare un aiuto concreto a chi ancora oggi combatte con la malattia. Sul palco sono seguite testimonianze commoventi ad interventi scientifici che hanno fatto il punto sulla SLA. La seconda parte della serata è stata dedicata alla musica con l'esibizione del coro Nugo Ramada che ha proposto alcuni dei suoi brani più noti, alcuni eseguiti con l'accompagnamento dalle Launeddas e di Roberto Tangiano e gli Amici del Folclore, altra formazione vocale nuorese. La chiusura della parte musicale della giornata dedicata alla SLA è stato il concerto di Pero Marras, il cantautore e anche testimonial dell'Isla. Slancio di Gioia tra Parole e Musica ha anche la finalità di raccogliere dei fondi da destinare ad interventi per dare la possibilità ad alcune persone affette da SLA di non rimanere prigionieri in casa. Pertanto i fondi raccolti serviranno per quattro interventi di abbattimento delle barriere architettoniche a favore di altrettante persone affette dalla malattia.